A quanto stavo? 70. 70? Sì. E vetti? Andiamo a 50. Qua con la pensione vecchiavica non ci fai un cazzo. Quando ci sono dei paesi che con quei quattro soldi tu ci campi, anzi ci fai pure una vita dignitosa. È bello partire, eh? Io ci penso sempre a partire. Andiamo, però andiamo. Bali, bella isola dell'Indonesia. Cioè io dopo due ore d'aria io mi sento male, io ve lo dico prima, dopo due ore io me butto. Io ho una lira e ho segnato il latino e il greco centinaia di ragazze e ragazze per anni, capito? Pronto? Le azzorre. Le azzorre. Si parla portoghese. Vabbè, per il portoghese si capisce, no? Dai ore, dammela mia, la miseria. Devo partire. Vedi da mattina. Stavo pensate via a me un alberghetto piccolo, eh? E l'esperienza ce l'ho io? Bisogna saper credere in qualcosa. Io, per esempio, credo che mia moglie è uscita, adesso potremmo berci un grappino. Ah, 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 ah. Giugliaccio. E poi volevo sapersi se si poteva avere anticipo. 42. Cavallo. Cavaglio. No A me non mi aveva più da partire Io me so stufato Ma peggio di ragazzini Sì, no, sì, no Dai, mo basta Però tu la pensione non ce l'hai Eh, ma io posso decidere partire Ma fattene la ragione, no? Posso decidere partire pure senza la pensione, no? Oh, io so il cittadino del mondo Mi fai a dire qualcosa, Cori, no? Ma che si ti vado a dire? Che ne so, ti è una cosa in latino Ma va a fare un comando E mica in latino? E mica in latino